Anche questa settimana cresce leggermente il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e l'incidenza si fissa intorno a 388 casi per 100.000 abitanti. L'RT anche mostra una leggera tendenza all'incremento, siamo a 1,04, quindi di poco al di sopra della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 12 e al 2,5%, quindi notiamo un leggero incremento nell'occupazione dei posti di area medica, mentre fortunatamente resta del tutto stabile l'occupazione dei posti di terapia intensiva e al di sotto di ogni soglia di criticità.